Ci sono volute oltre quattro ore e mezza di lavoro ai vigili del fuoco per domare l'incendio scoppiato in un deposito attrezzi in via Bibang a Carbonera nel Trevigiano. La struttura è annessa a un'abitazione e nessuna persona è comunque rimasta coinvolta. Le fiamme hanno devastato il deposito provocando danni ingenti e generando una colonna di fumo visibile da diverse aree circostanti. Squadre di pompieri sono giunte prontamente dalla centrale di Treviso e da Conegliano con il supporto dei volontari di Asolo per domare l'incendio impedire che si propagasse ad altre strutture. Al momento le cause dell'incendio non sono state confermate ma si presume che possano essere legate a un malfunzionamento dell'impianto elettrico o a fattori ambientali. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare l'origine dell'evento e adottare misure preventive per evitare futuri incidenti simili. L'intervento di messa in sicurezza dell'area è terminato a mezzanotte e mezza.